Buon pomeriggio dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio sulla Fitili, in direzione Livorno, un chilometro di coda per un veicolo in panne tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino, fare attenzione poi per personale su strada tra la Strassigna e Montelupo, traffico rallentato per lavori tra Montelupo Fiorentino e Ginestra Fiorentina in direzione Firenze e tra Pisa Nord-Est e Navacchio in direzione del Vivio, Firenze e Livorno. In a 12 controllo della velocità attivo tra Cole Salvetti e Rosignano Marittimo in direzione Rosignano. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra l'allacciamento a 1 di Firenze in Pruneta e San Casciano Nord in direzione Siena. Moversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie! 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 Grazie a tutti